A Palermo il caso è sulla bocca di tutti. In una piccola frazione a pochi chilometri dal capoluogo siciliano, a Villa Grazia di Carini, una donna di 67 anni, Grazia Bruno, è morta da una settimana, ma il suo corpo continua ad essere inspiegabilmente caldo e non presenta neanche il rigor mortis. Il decesso della donna in realtà è stato accertato da più medici, i quali non hanno escluso che in rari casi possa accadere che il cadavere si conservi e resista più a lungo al deterioramento. Intanto però i quattro figli della signora non vogliono saperne di seppellire la loro madre, finché quello che sembra uno stato di morte apparente non sarà del tutto superato. Il Francesco Passalacqua, figlio della signora Bruno. Non c'è putrefazione, non c'è cambiamento del colpo, il colpo non si è mai rigidito e questa cosa ci angoscia nell'idea di andare a seppellire mia madre in queste condizioni di non sicurezza. Così, dopo averla avvolta nelle coperte deposte nella barra, la vegliano ininterrottamente da sette giorni, con i riscaldamenti dell'abitazione al massimo, per evitare che il colpo perde il suo calore. La sera dell'11 febbraio i sanitari del 118 hanno effettuato un altro elettrocardiogramma che ha confermato la morte, ma la signora, detta dei parenti, più che deceduta, sempre proprio stia dormendo. Ora l'attesa è per il parere del medico legale che potrebbe concedere un'ulteriore proroga prima della data dei funerali, generalmente fissati, entro 48 ore dal decesso.